Grazie a tutti All'inizio di cui io, come dovete andare, la squadra vado da 1, 2, 3, 4, 5 Ogni periodo di gioco è un quarto d'ora Quindi avete detto un quarto d'ora per fare quel gioco Passato un quarto d'ora, non lo dicono stop, cambio Ma il prossimo cambio, mettete a mangi per cambiare gioco Ieri al numero 1 dal 2, ieri al numero 3, ieri al numero 4 Ieri al numero 6 dal numero 8, ieri al numero 8 Così, uscite il numero 4 e non uscite il numero 4 Adesso attenzione perché devo spiegare un po' velocemente i gioco Sono semplici, sono semplici per anni che non so In questo c'è bisogno di spiegare Allora cercate di guardare e ascoltare i film di vari dettagli, hai capito? Allora 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 Grazie. 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 Grazie.